Ciao a tutti, siamo qui con Kovimini Kozzi, vuoi parlare del tuo top? Ciao ragazzi, dopo il top YCS Rimini, dopo il top Bologna CCG, un altro top in Regional Championship Pavia, la stessa deck Minerva Turbo e con la stessa deck di YCS e CCG, ho messo 3 pot of desires per il YCS e per la CCG non ero sicuro di poter giocare, ma ora ho calcolato la probabilità di prendere, per esempio, il verde e prendere una fusione brillante o banish il verde e prendere una fusione brillante e la probabilità era molto alta, quindi ho cercato di giocare i desideri e sono satisfezato per il tuo design Ok, è stato un'altra choice? Sì, sì Ok, per la decklist Per la decklist For the monster For the monster Two photon thrusher Ok Very good against the Performa Pal Kirin And the special to spam Ok Three galaxy soldier Very very good For the infinity For the durendal To use the gem knight And for example Discard the tree clown One yellow one for the brilliant Only one It's enough Two of the tree clown Two fellis Two fellis For the lightsworn Three raiden Two lilac Three wolf And one eren And one eren For the lightsworn Ok The best card of the deck The fairy tale Three Always three And the goblin berg Also three Yes, for the spawn Ok Probably next time I'll try the glow up bulb For the natura beast With goblin berg for example You can normal summon goblin And special summon blow up Natura beast against blue eyes Yes, blue eyes Or for example Performable Ok But The Hardest Is Swap A card from the extra For Natura beast Yeah I don't know You know the other slot I'll try for another regional championship Ok That's it for the walkers Yes, that's it For the spell cards Soul charge Three brilliant And the three Pot of desires Pot of desires Pot of desires I'm satisfied to To play Ok You only added Or You make some changes? No, no You only added Two charge One reinforcement One foolish Three soda It's important And the three Instant fusion girlfriends You can Crawler Four And the conspiracies I dropped Same of ша Three fragrance Again It's performed One blue eyes And one vanity emptiness Okay Vanity is good? It's very very good Ok Non lo so per l'avvento di ABC, ma per ora, per il metagame, Blue Eyes, Performable e Burning Up, non è buono Per il sidehack, 2 Maxi, 2 Ghost Over, nuove carte del sidehack È buono? Sì, ho vinto un buon gioco, 1-0 per me e inizia il Performer Pal, inizia il combo con Iris e Sky Iris e la scuola con Sky Iris E ti ha dato il gioco? Sì, per il gioco 2 Saker, 2 Gammesiel, 2 Comungus, 2 Parcola per il Kaiju, 2 Typhoon contro tutto, face-up e performabile e 1 Licking the Light contro Harold e, per esempio, Blue Eyes Sì Sì Sì, contro Blue Eyes e questo gioco Ok Mi scuola era 5-1 e 1 perdita e mi scuola solo un deck di Herald of Perfection Mi scuola solo di Dive Stroll Sì, inizia il Turbo Ok Sì Per l'Extra, no Extra no change 2 Omega 1 Spark 1 Northern 1 Serafinite 1 Emerald 2 Utopia 1 Durandal 1 Castle 1 Dweller Nova and Infinity for the Galaxy e, ovviamente, 2 Minerva in Boston Ok Ok That's it and thank you very much Ok Bye Bye